Non sono stati ancora individuati i sei dispersi e gli speleo sub dei Vigili del Fuoco che sono entrati nel veliero di 50 metri affondato a largo di Palermo si sono trovati davanti una concordia in piccolo e il responsabile della comunicazione in emergenza del Comando Generale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, a spiegare le prossime fasi delle ricerche e le difficoltà che i pompieri stanno incontrando a partire dai tempi di immersione che sono molto stretti. Le squadre, spiega Cari, sono composte da due speleo sub che devono affrontare difficoltà notevoli. A quella profondità, infatti, possono rimanere sott'acqua per 12 minuti massimo di cui due servono per scendere e salire. Dunque il tempo reale per poter effettuare le ricerche è di 10 minuti a immersione. Ma questo è solo uno dei problemi. È una concordia in piccolo, dice Cari. All'interno del veliero gli spazi sono ridottissimi e se si incontra un ostacolo è molto complicato avanzare, così come è molto difficile trovare dei percorsi alternativi. Al momento i sub sono riusciti a ispezionare solo il ponte di comando che è pieno di cavi elettrici e non hanno trovato nessuno in quella zona. Dall'esterno non si riesce a vedere nulla dentro lo yacht e dunque al momento non è stato individuato alcun corpo. I vigili del fuoco, dice ancora Cari, dopo essere entrati da una scaletta nel salone, stanno ora cercando di trovare il punto migliore per entrare e lavorare in sicurezza. Abbiamo individuato una vetrata dalla quale potremmo entrare ma è chiusa dall'interno ed è spessa 3 centimetri, dunque dobbiamo riuscire a rimuoverla e poi potremmo avanzare meglio all'interno.